Ecco, ci fa, ecco il nostro ospedale di sole, di sole, clinica di sole, bella, bella come bellissima, alberi belli, cioè un po' vero, è veramente bello. Hai chiamato Angelo? Io stavo, è lì, è nei saluti. Ah, grazie. Parlai, fa 50 anni, era un psicoso, era tutta un'altra cosa, la placca, la placca, la tira, e vediamo cosa mi danno e vediamo la russa, la russa è un'obbligativa io mi sto in, adesso accendono vento e vediamo la russa 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 questa recettione è il nostro coridore il coridoio vediamo la russa e vediamo la russa così mettiamo pure come storia poi dopo facciamo storia ah voleva banane ah 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 ecco la banane albero di banane mista com'è bella e vediamo la russa con il terzo reparto 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 qua si vede ancora di più ecco la banane mh albero di banane bella è bello spedale bello il nostro reparto terzo la politica non guarda con me non è bello spedale madonna la mattina la mattina vanno a pregare fare preghiere portano fiori guarda com'è bello guarda cos'è madonna per pregare chiedere salute a madonna ok è fatto tutto filmato